ricordiamo la programmazione di qui calcio cicova andiamo in onda tutti i mercoledì alle ore 23 su trg canale 11 del digitale terrestre due le repliche previste entrambe al giovedì alle ore 13 e 30 su trg 1 e quindi canale 111 e alle ore 18 e 20 su trg e quindi canale 11 inoltre dal giovedì mattina ci trovate anche online su video.settecalcio.it Grazie a tutti. 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 Questo è uno sport dove magari tutti si devono divertire, partecipare e cercare di fare il meglio che sia possibile. Poi se si arriva a un livello più alto, tutto è guagnato per tutti, è una soddisfazione per noi, per loro. Però la maggior parte è cercare di frequentare uno sport sano, divertirsi e fare degli esercizi fisici che servono anche per la salute, stare insieme. A prescindere dal risultato sportivo, esatto, che quella è l'ultima cosa che può contare. Per cui diciamo più insegnamento, con le scuole della città c'è qualche sinergia, si organizza qualcosa insieme? Con le scuole mandiamo tutti gli anni dei nostri tecnici a fare delle esercitazioni, a spiegare ai ragazzi cosa è il calcio, come è lo sport, quello che è l'attività fisica, quello che uno può trovare. Insomma, quindi magari è anche uno sport fatto all'aria aperta, quindi i ragazzi, uno dice, ah piove, magari non ce lo portano. I ragazzi si divertono quando piove, ci stanno le pozzanghe, magari, e qui vanno dove c'è. Quando vado a giocare, che mi diverto al calcetto, se piove. Uno, doccia bollente, a posto. Quella è la miglior stacchipirina. Assolutamente. Presidente Mammoli, non parliamo di prima squadra? Assolutamente no. Al momento non ancora. Invece mi soffermerei un attimo su una situazione che non c'è più, ovvero che non siete più Juventus Academy. No. Come mai questa modifica, diciamo? È una scelta vostra? Noi siamo andati avanti due anni con loro, ci hanno riposto anche l'affiliazione, secondo noi non era più percorribile quella situazione. Abbiamo scelto un'altra strada e andiamo su un'altra strada, ma ci tengo a dire no, non per scelta di altri, ma per scelta nostra. Abbiamo noi, che non voluto più questa cosa. Ha rinunciato a questa opportunità? Ha rinunciato a questa opportunità. E state mettendo in cantiere qualche altra affiliazione oppure affiliazione? Noi vediamo un attimo se c'è qualcosa che è veramente concreto per i ragazzi, per far crescere i ragazzi, veramente qualcosa di positivo. Cerchiamo di ripercorrere, se no cerchiamo di strutturarsi con dei buoni… Esatto, da soli diciamo. Da soli, con dei buoni allenatori. Da parte dei genitori, delle famiglie, dei ragazzi stessi, c'è richiesta di essere affiliati a una società importante oppure no? Ma io no, poi noi siamo il Bastia, noi siamo il Bastia. La società importante è già il Bastia? Già, credo io per quello se la pensano come me, io ho fatto tante cose pazze per il Bastia, quindi per me noi siamo una società importantissima, non importante. Quindi ci credo veramente e l'affiliazione ben venga se ti danno veramente qualcosa di tecnico in più, qualcosa che ti aggiungono, qualcosa per far crescere un ragazzo. Ma semplicemente l'altro marchio per essere affiliati a Juventus, a Fiorentino o quello che sia, non mi sembra il caso. È stato più che altro un problema di costi oppure tecnico? Costi, loro non ne chiedono, tranne il kit e le cose. Però era diventato più il marchio Juventus che il marchio Bastia, noi invece ci teniamo al nostro marchio. Era un po' un prevaricante. Assolutamente sì, noi vogliamo, ci stiamo impegnando per il Bastia e quindi te l'ho detto, io faccio anche cose sopra il normale per questo Bastia. Quindi già un altro marchio, noi crediamo nel marchio Bastia, assolutamente sì. Senti, tu sei partito il lotempore dal settore giovanile, poi hai preso, no? Io mi sento ancora nel settore giovanile, Gianfranco, noi siamo andati verso questa prima squadra, però andando a fare un piccolo passo verso la prima squadra, non ci sono qui stanno tanti prodotti vostri. No, noi abbiamo, siamo andati verso questa prima squadra, poi forse la Serie D, perché in eccellenza ne eravamo diversi di nostri. Poi la Serie D non ci ha dato questa possibilità di usare tanti ragazzi nostri, però noi in qualche modo assolutamente di portarli nella categoria che stiamo e ci vogliamo portare tanti ragazzi di Bastia. Quello è il nostro pensiero, se no non… poi uno che viene dal settore giovanile, se no dice il settore giovanile perché stiamo… Esatto, la prima squadra è un po' l'estensione del settore giovanile. Assolutamente, deve essere questa cosa. Non dico che deve essere fatta per 22, no? No, magari, ma non è possibile. Un bel numero sì. Un bel numero sì, assolutamente. Altrimenti insomma non ha senso fare il settore giovanile. Assolutamente. Ma diciamo, i ragazzi del settore giovanile invece sono coinvolti nelle attività della prima squadra, cioè che ne so, c'è il piacere di venire a vedere la prima squadra? Sì, sì. Io quando ero piccolino vedevo l'ora della domenica per cercare di andare a fare la cattapalle. No, 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 noi ci abbiamo sempre… Assolutamente, ci sono. Ci abbiamo tanti ragazzini che la seguono, assolutamente sì, perché deve essere quello, l'intento è di pensare un tutt'uno, insomma. Se no, te l'ho detto, non ha senso, se no forse la categoria è troppo alta per quelli che i ragazzi che abbiamo, oppure viceversa. In qualche modo dobbiamo stringere la cosa. Andare ok, benissimo. Presidente Abbati, torniamo un attimo da lei a parlare proprio di… Allora, voi avete quattro impianti sportivi in gestione, no? Oltre a questo c'è il campo sportivo di Costano, quello di Ospedalicchio e il Borgo Primo Maggio. Quattro impianti, diciamo, è più un costo o una risorsa, diciamo, per voi? Beh, è un costo e una risorsa, perché abbiamo la possibilità di distribuire i ragazzi su diversi campi, quindi hanno il loro spazio, se no sarebbero molto stretti magari di dividersi il campo, così hanno la possibilità. Beh, un campo solo diventa 22 squadre, se non sbaglio, sapete? Quindi diventa difficile anche allenarsi, quindi non avere spazi per provare le partite, le giocate, oppure per avere… Però comunque non è molto dispersivo. No, no, stanno qui nel giro di 3-4 chilometri, tutti i campi stanno qui in zona, quindi magari questo è anche un vantaggio per la nostra società, perché pochissime società hanno queste strutture. Sono gestibili da voi direttamente, oppure ognuna ha una gestione, un'altra squadra, tutte voi? Oltre 300 tesserati, se non sbaglio. Sì, settore giovanile. Settore giovanile. Senza considera la prima squadra e gli unioners. Per cui diciamo arriviamo a 340, 35. State lavorando adesso per crescere a livello qualitativo o numerico? Uno e l'altro. Uno e l'altro. Il numerico porta qualcosa e porta anche un po' di introito, diciamo, perché comunque alla fine è anche quello che serve. Sì, è un aiuto per tutti, però dobbiamo anche dare, quindi più ragazzi hai, più istruttori devi mettere, non è che aumenti i ragazzi, c'è un guadagno maggiore, magari devi mettere altro personale, un altro istruttore per gestire i ragazzi, non è che uno può fare 40 ragazzi. Questa è una domanda un po' per entrambi. Siete entrati in società, adesso non so gli anni in cui siete entrati, ma come genitore oppure perché vi piaceva proprio entrare in una società calcistica? Prima come genitore e poi pian piano questa cosa ci ha trascinato. Verso l'essere presente in maniera molto più importante. Anche tu? Assolutamente, noi tanto tempo fa, un ragazzo che giocava qua, il mio figlio e poi piano piano si siamo messi a fare i dirigenti, dagli accompagnatori siamo passati a dirigenti. Hai fatto strada? Era più spensierato prima, è molto più divertente, però va bene, è una scelta, nessuno ci ha spinto a fare questa cosa, quindi piacevole. Senti, ma tu non so il presidente Abbati da quanti anni è all'interno della società? Anche più di mezzo. Ah, per cui è una memoria storica importante. Il più forte che è uscito dal settore giovanile del Bastia chi è? Ah, negli ultimi anni... Zebli. Zebli. Zebli? Sì. Perché era notte, avveniva, insomma anche c'era un attacco a scuola, un'alza a scuola calcio. Ah, non era proprio... Non era proprio, poi dopo siamo tutti messi, però avveniva... All'epoca non era... Il discorso era male, non era Bastia nel 1924. Ah, ok, ok. Juniores è prima squadra, è una cosa unica, nel senso si parlano tra loro, c'è interscambio, allenamenti insieme? Sì, assolutamente sì, deve essere così, poi adesso infatti stiamo andando male sia con la prima squadra che con la Juniores, quindi è un bel interscambio, sì, però... Speriamo di migliorare sia di là che di qua. Speriamo di migliorare sia a destra che a sinistra, assolutamente, lo dobbiamo fare. Soprattutto per la prima squadra, dicembre, è in arrivo, la fine... Poi le cose facili a noi non ci abbiamo, ma questo anno scorso, quindi noi dobbiamo prima prenderle e poi perdarle. Un po' come i roghi. Un po' come i roghi, quindi... Bisogna aspettare sempre... Ma non ci spaventiamo le cose, non è che... L'ultima ripresa, speriamo di no, dai. No, no, assolutamente. L'ultima domanda, ci sono delle agevolazioni per iscrizioni magari di famiglie che non possono, che ne so, magari hanno due o tre figli... I figli, chi ha due figli ha uno scotto. Ah, ecco. Basta. Cerchiamo... Non possiamo fare. No, no, cerchiamo di far giocare tutti, noi anche uno spirito sociale, assolutamente, anche uno spirito sociale... E' un caso che magari andremo a risolvere, caso per caso, noi sistemiamo le cose, non è perché uno non ha i soliti di iscriversi e lo abbandoniamo, assolutamente no, non è nel nostro spirito, assolutamente, partecipa come gli altri, diciamo, l'attività, assolutamente. E del resto, calcio giovanile è insomma anche un'attività sociale, per cui insomma... Soprattutto, credo. Soprattutto, perché invece di lasciare i ragazzi a destra e a sinistra, non si sente... Assolutamente, assolutamente. Deve essere un momento di... Questo è un impianto bellissimo che oggi abbiamo visto essere vissuto da tantissimi ragazzi e non solo ragazzi, perché anche noi adulti ci siamo divertiti a vedere tutto questo bellissimo spettacolo, no? Poi ci stanno anche tanti allenatori, accompagnatori, dirigenti, insomma, tantissima gente intorno a questo... Siamo un bel gruppo, un bel gruppo, un bel gruppo. Quanti dirigenti... Allora, forse siamo... al momento siamo 60 dirigenti tesserati, credo, una cosa del genere, diceva Luigi. No, no, siamo... Siamo un bel gruppo, quindi appunto io ti dico... Identificarci come bastiano... Il presidente è una persona vera, per cui... I presidenti, i presidenti... Vabbè, io adesso il presidente... No, 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 perché Gianfranco lui fa molto... Fa molto più del settore... Assolutamente, sono sempre io lì, mi sono lì perché il giornale, perché questa prima squadra, ma lui... Fai pure tranquillamente... Ti dico che fa tanta roba, quindi... No, no, mi fido, assolutamente. Poi questa prima squadra si è sempre lì, la foto, la cosa, però... Dietro a questo c'è tantissimo, però dietro a questo c'è tanta roba, non è quello... Benissimo. Allora, abbiamo per ora concluso questa parentesi con i due presidenti, alla mia destra Gianfranco Abbati, presidente importante, come dice Sandro, ma soprattutto riferimento del settore giovanile. Alla mia sinistra Sandro Mammoli, presidente della società. Adesso andiamo un attimo in pausa. Satiri Auto, showroom dell'automobile dal 1966. Concessionaria ufficiale per i marchi Fiat, Fiat Professional, Abarth, Lancia e Ford. Assistenza ai ricambi anche per i marchi Alfa Romeo e Jeep. Satiri Auto, cresce la passione per le quattro ruote. E' tempo di cambiare. Con 7 calcio ora hai tutto il calcio Umbro in tempo reale. Scarica gratis l'app Italia Gol e poi seleziona 7 calcio. E' la nostra nuova applicazione. Risultati in tempo reale, classifiche, marcatori, calcio mercato, highlights, trasmissioni e tante, tantissime news. E' davvero tempo di cambiare. Scarica la nostra app Italia Gol e poi seleziona 7 calcio. E' la nostra nuova applicazione. Non puoi sbagliare. Non puoi non averla. Benissimo, abbiamo sentito i due presidenti, Sandro Mammoli e Gianfranco Abbati. Ora andiamo alla lettura di tutti i tornei Juniores nazionale, Juniores A1 e A2. Eccoci dunque a lei Juniores e cominciamo dal Gione F delle nazionali. Quinta giornata. Foligno, Materica 3 a 2. Iesina, Porto e San Delpidio 2 a 0. Monte Giorgio e Le Canatese 1 a 4. San Marino, Cannara 2 a 3. San Giustese e Bastia 3 a 0. Trestina, Tolentino 0 a 1. La classifica al comando è il Cannara con 13 punti. Tolentino e Foligno 12. Re Canatese 10. Iesina 9. Matelica, Monte Giorgio, San Giustese 7. San Marino 6. Porto e San Delpidio 4. Chiudono Trestina e Bastia con 0 punti. Veniamo nella regione. Juniores A1, Girone Unico. Sesta giornata. Angelana, Olimpia, Tirus 1 a 1. Baldaccio Bruni, Casa del Diavolo 3 a 1. Castel del Piano, Gualdo, Casa Castalla 1 a 0. Nestor, San Sepolcro 1 a 0. Olvietana, Campitello 4 a 1. Pedrignano, Narnese 1 a 0. Ponte Vecchio, Ducato 3 a 2. San Sisto, Fontanelle 1 a 1. La classifica, Orvietana 14. San Sepolcro 13. Narnese 12. Fontanelle, Ponte Vecchio 11. Ducato, Castel del Piano 9. Nestor, Campitello e Pedrignano 8. Olimpia, Tirus. Baldaccio Bruni. Angelana 7. San Sisto 5. Casa del Diavolo 4. Chiude il Gualdo Casa Castalla a 0 punti. Andiamo ora al Gironea della Juniores a 2. Quarta giornata. Atletico Cubio, FC Castello 0 a 1. Cervana, Pontone 2 a 2. Lama, Ponte Felcino, Posticipata. Sulpizia, Colombella, Perugia Nord 0 a 2. Tiferno, 1919, Umbertide M a 3 a 0. Virtus San Giustino, Ponte Patoli 5 a 2. Riposava il Branca. Tiferno, 1919 al comando, a punteggio pieno con 12 punti. Segue FC Castello a 9. Poi Montone 7. Colombella, Perugia Nord. Ponte Patoli, Ponte Felcino, Umbertide M a 3. Atletico Cubio, Branca 6. Virtus San Giustino 3. Cervana 1. Chiude il Lama. Chiude il Lama, il Sulpizia con 0 punti. Girone B. Quarta giornata. Passignano, Magione 3 a 2. San Marco, Giuventina, Pevese 1 a 2. Santa Sabina, Junior, Sanzisto 4 a 4. Tavernella, Ellera 2 a 0. Trasimeno, Madonnalta, Ferro di Cavallo 4 a 2. Tuoro, Don Bosco 4 a 3. Ventinella, Mantignana 8 a 1. La classifica. Ventinella al comando con 12. Junior, Sanzisto e Pievee 10. Tuoro 9. Passignano 8. San Marco, Giuventina. Trasimeno 7. Tavernella 6. Don Bosco 4. Santa Sabina 2. Magione, Madonna Alta, Ferro di Cavallo ed Ellera 1. Chiude il Mantignana a 0 punti. Andiamo al Girone C. Sempre il quarta giornata. Bevagna, Cascia 3 a 1. Cliturno, Deruda, San Nicolò 1 a 1. Giulia Spello, Corlepieve 6 a 1. Nocera, Umbra, Spoleto 2 a 1. Polizia Penitenziaria, Assisi Subasio 3 a 2. Bicol, Nuovo Guardo Bastardo, Ponte Valle Ceppi 0 a 1. Riposavala, C4. La classifica. Iulia Spello, 12. Bevagna, Bicol, Nuovo Guardo Bastardo, Ponte Valle Ceppi 9. Polizia Penitenziaria 8. Cascia, Nucera Umbra 6. Cliturno 5. Assisi Subasio 3. Deruda, San Nicolò 2. Chiudono, Spoleto, C4. Collepieve, ancora ferme a 0 punti. Andiamo invece alla... Chiudiamo con il Girone D della Juniores a 2. Quarta giornata anche qui. AMC 98, Sport Interni 1 a 0. Giove, Amerina 1 a 4. Guardia, Terni Est 2 a 4. Massa, Mantana, Olimpia, Pantalla 1 a 0. Romeo, Mentitodi 1 a 1. San Gemini, Profigulle 1 a 3. Riposava, Accademia Calcio, Terni. La classifica, Terni Est 12 punti. Todi 10, Amerina 9. Massa, Mantana, Olimpia, Pantalla, San Gemini, Profigulle 6. Romeo, Mentit 5. Guardia 4. AMC 98, Giove 3. Chiudono, Accademia Calcio Terni e Sport Interni, ancora ferme a 0 punti. Benissimo, eccoci tornati in campo come nostra consuetudine. Gli ospiti sono cambiati nel frattempo. Ho il piacere di presentare qui alla mia destra la signora Mirella Bartolucci, che è dirigente della società, non ha un ruolo, una definizione precisa. Io fino a qualche tempo fa ero vicepresidente, poi per impegni diciamo che sono sopraggiunti ho scelto di, non avevo un tempo sufficiente, io ho molto rispetto per le cariche, quindi credo che se si prende un impegno si debba percorrere in una maniera importante. Faccio quello che posso in termini di tempo, però la passione è intatta. Benissimo, invece alla mia sinistra Antonio Internò, che è il responsabile del settore giovanile. Ciao Antonio. Ciao Stefano, buonasera. Direi di cominciare assolutamente. Assolutamente. Anche perché una donna nel mondo del calcio è un evento rarissimo, capita sempre molto, un poco di frequente diciamo. Beh, adesso assistiamo a… Come vai questa passione per… Beh, a me piace il calcio, sono una tifosa, non so se si può dire la squadra, qualche volta si bestemmia a parlare di Juventus, ma io sono… È purtroppo, purtroppo una tifosa… C'è questa malattia, ognuno ha la sua malattia. Questa condanna, ma è una condanna… io è come la religione, questa è praticante, perché vado allo stadio, ho un abbonamento, quindi… Una tifosa vera, no? Una tifosa vera, quando era in Serie B, quando ci sono stati gli scandali, quando… Io sono questo, nel senso credo che è come per il Bastia, si debba stare accanto alle realtà, quando… In tutti i momenti, in qualsiasi… Se no è facile fare il tifoso quando si vince sempre, quindi un po' me l'ha insegnato il mio lavoro, io sono un private banker di una banca molto importante, lavoro da 32 anni in questo mondo e la disciplina che ho maturato in questa esperienza la porto anche qui, quindi cerco di aiutare, di essere di supporto quando si organizzano degli eventi, quando si creano delle sinergie, quando si devono incontrare degli sponsor, cerchiamo così di essere un po'… Te la cavi benissimo? No, ci provo, questo è… Il livello di intrattenitrice? Beh, adesso non so se mi stai proponendo un futuro in questo mondo professionale, ma io non dico mai a niente, nel senso credo che la poliedicità delle persone sia una ricchezza, fatta bene, fatta con i tempi che ognuno ha, con rispetto, con assoluta, diciamo, umiltà, io credo molto alla parola umiltà, perché se uno rimane con i piedi ben piantati per terra, a tutte le età e con tutti i ruoli, cioè io nel mio mondo penso a Del Piero, nel mondo Juventus, Del Piero un dirigente, una persona vera, uno che viene dal nulla e che si è fatto, si è costruito pezzo per pezzo, che ancora oggi fa volontariato, fa attività di vicinanza a realtà e lo fa non come si fa adesso, adesso si parla delle malattie in pubblico, si parla della famiglia in pubblico, si fa tutto in pubblico. Io credo invece anche che alcuni aspetti debbano essere tenuti un po' fuori da… e condivisi con chi invece ha, con la propria famiglia, con la ristretta cerchia di persone, questo non per non condividere, ma per pudore, per quel senso anche di tutto in piazza, tutto è molto… Sì, con i social diciamo che questa situazione, queste cose si sono un po' acuite, no? Sì, esatto. Parlavi di questa vocazione di Del Piero dopo che ha lasciato il calcio, anche voi come Bastia fate diverse attività collaterali, proprio extra calcistiche, come da poco c'è stata un'iniziativa con i diversiamenti abili, poi come avete detto anche Marcello Rossignoli ha parlato di fare corsi di educazione stradale, corsi di inglese, lettura, teatro, insomma tantissime altre attività oltre al calcio, come mai queste attività, il Bastia, che cosa si pone diciamo? Purtroppo non abbiamo i fondi sufficienti perché ne vorremmo fare molte di più, queste sono solo un piccolo esempio e crediamo che il nostro ruolo non sia solo di insegnare a giocare a pallone, perché poi, come dicevano prima i presidenti, c'è un solo Ranocchia, c'è un solo Del Piero, c'è un solo… Uno su mille che la fa, ma forse… Ecco, no? Gli altri cosa ricevono da questa esperienza? Quello che hanno detto questi bambini prima, ricevono la voglia di stare con gli altri, di essere lontani dalle strade, di saper condividere le sconfitte, di capire che il percorso è sacrificio, è percorso, non è tutto subito. Questo è… se noi riusciamo, come scuola calcio, a trasferire questi concetti, cioè l'inglese può essere una palla durante l'anno scolastico, noi riusciamo, perché abbiamo dei collaboratori veramente di livello, a far passare l'inglese come una cosa… come un gioco, no? Così come la sicurezza… viene fatto sul campo e fa parte, come una sorta di allenamento speciale. E tutte le nostre attività sono una sorta di allenamento. Quando si va in bicicletta o a piedi lungo le strade di Bastia, in collaborazione con la Polizia Municipale, voglio rimarcare, ripeto, lungi da me fare politica, perché non mi appartiene, faccio un'altra mestiere, ma devo dire che rimarcare il sindaco Paola Lungarotti è assolutamente molto vicino al nostro mondo, lo capisce perfettamente e credo che quando uno… Non è poco, eh? Non è poco. Poi magari concretamente dobbiamo sviluppare… Comunque queste realtà, queste società sportive hanno comunque bisogno dell'appoggio delle amministrazioni, non solo a livello economico, col contributo, con l'impianto, ma anche proprio come vicinanza fisica per… Sì, perché poi… Capire che c'è… Esatto, perché chi capisce questo mondo… Poi lei faceva prima una domanda ai presidenti, la vicinanza con le scuole, noi organizziamo parecchi incontri, li vogliamo ancora di più incentivare, perché i primi calci non sono attività agonistica, poi meglio di me lo potrà dire Antonio, sono gioco, no? E quindi se aggregazione, divertimento, il sano divertimento, quelle cose semplici di una volta che magari in molti casi abbiamo perso. Quindi credo che noi abbiamo miliardi di progetti e di idee, dalla squadra del settore giovanile o comunque femminile, allo sviluppo di una, come dire, di una sorta di comunione con le altre attività sportive. Noi non pensiamo che ci sia solo il calcio. Nei nostri progetti c'è anche l'idea di realizzare delle attività polivalente, abbiamo in mente da tempo, avevamo fatto anche un tentativo… Però occorrono anche le risorse. Ci vogliono i soldi. Per cui magari, non so, vuole sfruttare… È un appello, è un appello… Anche perché Bastia, io lo dico sempre, Bastia ha un tessuto commerciale, industriale, imprenditoriale. Noi dobbiamo ringraziare moltissimo, non so se mi faccio dei nemici, ma dobbiamo ringraziare le piccole, piccolissime, micro aziende, che anche con i 200 euro, con i 500, con ti regalo il legno per partecipare a questa cosa, ti regalo la maglietta, ti do il contributo per la tovaglietta dell'evento, eccetera. Ecco, purtroppo non tutte le grandi aziende invece sono così sensibili. E io dico, non è solo il business che conta. Lo dice una che sui numeri, io non faccio, voglio dire, filosofia, no? Il mio mondo è fatto di soldi, quindi non sto a pettinare le bambole. Però dico che ci sono modi di fare business che comprendano anche, abbiano anche attenzione al futuro, alle generazioni future e al sociale. e alla tua città, perché poi uno ha un milione, sì, ne ha due, ne ha cento, ne ha dieci, in più, ne ha mille in più. Però se invece uno, vediamo il caso per esempio, ripeto, non faccio né pubblicità politica né di altro genere, un Cucinelli. Cucinelli ha rivoluzionato quello che ha intorno. È un esempio, con i suoi limiti belli, brutti. Anche lui aveva una squadra di calcio. Però dico, anche nel sociale, nel realizzare, chi è più fortunato, chi è più capace, più bravo, più tutto, credo che abbia anche piacere di condividere. Ecco, questo... E ci sono... Noi siamo assolutamente un mondo di gratuiti, di persone che lo fanno per scelta e per passione. E ripeto, io sono per la libertà delle persone, quindi credo che non è che si possano andare a prendere le persone a casa e trascinarle, no? Così gli imprenditori. Fare un'opera di convincimento globale. Ecco, però noi siamo, ci piace l'idea, possiamo realizzarlo in mille modi, le modalità di collaborazione. E ascoltiamo chi ci viene a fare anche delle proposte. A me, per la mia azienda, vede oggi Forini, no? Secondo noi è un'ottima iniziativa, perché parte dal loro noto e la trasforma in un supporto per le famiglie. Per noi è una modalità di dare un altro tipo di servizio e si chiude un cerchio, no? Quindi quanti altri casi potremmo avere di questo tipo? Assolutamente. Potrebbe essere sfruttato come esempio, diciamo. Assolutamente. Antonio, veniamo a noi. Ciao Stefano. Ciao. Intanto complimenti per questo ruolo, che insomma credo che era ambito da parecchi, perché Bastia è una piazza importante, ha numeri importanti. E insomma, poi c'era anche da ricostruire, visto che non c'è più la Juventus, c'era da ricostruire un marchio, come ha detto il presidente Mammoli, e averlo affidato a te, evidentemente. Tu dopo tre anni di prima squadra sei tornato. Al settore giovanile. Al settore giovanile. Il mio primo amore. Il tuo primo amore e anche l'attuale amore. L'attuale, l'attuale, anche se in un ruolo diverso. Com'è la situazione adesso a Bastia, diciamo? Sì, beh, allora, devo dire innanzitutto che chi mi ha preceduto ha fatto un buon lavoro, quindi non c'era da ricostruire un settore giovanile, c'era semplicemente... Non era a zero, assolutamente. No, no. Assolutamente. È il marchio che si era un po' fuscato. No, esatto, no. No, no, nel senso che nel momento in cui si si è messi a tavolino a decidere se l'affilazione con la Juventus, dopo tre anni, continuava a portare dei vantaggi oppure no, è emerso che probabilmente un anno di riflessione o qualche anno di riflessione tecnica. Perché poi noi sappiamo benissimo che le affilazioni portano le società professionistiche che hanno delle situazioni tecniche a livello nazionale, no? Adesso no, diciamo, per tutte uguali. E allora noi volevamo creare qualcosa di nostro che si... Essere improprioso o non mi diciamo? No, tenere conto di quelli, dei nostri istruttori, quelli che hanno appreso per tre anni e poi però cercare di rimodellarlo a seconda della nostra situazione ben precisa. Cioè, della realtà bianco-rosso. Questo l'abbiamo fatto. Ti dico che è stato un lavoro, diciamo, organizzativo, concettuale, molto... Sono sufficienti le 24 ore? Perché mi dicevi... Grazie, bella domanda. No, perché anche io, come Mirella, faccio totalmente altro. Quindi sono farmacista, lavoro per una multinazionale farmaceutica. Però ho questa maledetta passione che ogni domenica è qualcosa... E' maledetta e benedetta al tempo stesso. Sì, esatto. La famiglia, eccetera. No, però sì, esatto. Diciamo che noi ci siamo strutturati, organizzati, abbiamo fatto un modello nostro che si chiama Identità Bastia, proprio come progetto tecnico che stiamo portando avanti e grazie anche all'aiuto, appunto, di chi c'era. Perché poi io non c'ero negli anni precedenti. Certo. Da parecchi allenatori già c'erano. Sì, diciamo che più della metà sono rimasti. E poi non solo. Poi noi siamo strutturati che, per quanto concerne il settore agonistico, quindi dai giovanissimi insuli gestisco direttamente io. e poi invece nella scuola calcio, dove ci parliamo di 20 squadre, c'è Lorenzo Sanzari e Angelo Marchetti, che sono assolutamente i coordinatori responsabili dell'attività di base e con i quali appunto abbiamo identificato e costruito questo modello che al momento... Sta dando buoni risultati. Beh, diciamo che abbiamo visto come tutte le società, quando c'è qualche cambiamento, inizialmente c'è un po' di diffidenza, un po' di diffidenza, poi bastia una grande comunità, dove comunque c'è il mercato rionale, settimanale, dove si parla. Qualcuno, mi ricordo da lui, io, ah ok, non siamo più affilati alla Juve, venne un genitore e mi disse, però è vero che siete affilati al Pescara. Non mi risulta, però se c'è qualcosa di nuovo parliamone, no? No, perché al mercato oggi si parlava di questo, è bellissimo. Però vabbè, finché se ne parla, no? No, no, è sempre positivo, anche se in maniera negativa, alla fine comunque... Esatto. Tu hai nominato i genitori. I genitori per me sono fondamentali. Ecco. Sono veramente una riserva fondamentale. Perché in qualche caso... Una risorsa, scusi. Genitore, perlomeno qualcuno, diciamo, crea problemi. Pesce, per la maggior parte dei casi, devo dire, anche secondo me sono una risorsa. E tu me lo confermi qui a bastia. Come li sfruttate, tra virgolette, i genitori, diciamo? Sì, allora, noi abbiamo dei dirigenti accompagnatori che sono identificati appunto tra i genitori su basi chiaramente volontaria e sono due, tre, quattro, secondo delle numeriche delle squadre per ciascun gruppo, per ciascun'annata. Facciamo loro dei corsi e quelli che sono qui già da tempo li aiutano poi a capire quale sono le loro mansioni. E sostanzialmente ci hanno veramente un aiuto incredibile. Il loro vero primo filtro è quello di sedare qualche genitore che magari non ha compreso bene. No, ma che non ha compreso bene, perché poi tutto molto deriva, non potendo partecipare chiaramente a tutte le discussioni o a tutte le riunioni, a piccoli misunderstanding. Quindi poi nei momenti in cui c'è un genitore che te lo spiega, guarda sono anch'io figlio e ti spiego che no, non è così come te hai percepito da dietro la rete. Quindi sono cose che poi non arrivano a noi e non arrivano ne ai ragazzi e quindi è un bellissimo... C'è un'educazione, assolutamente, assolutamente. Viene richiesto loro, viene richiesto loro e lo fanno veramente bene. Ma anche oggi avete visto per l'organizzazione di tutto questo... Sì, sì, assolutamente, tanti genitori... Ma in questa settimana ci hanno dato una mano incredibile. Non so se l'avremmo fatto uguale, non lo so. Certo, certo. Non lo so. Senti, nella vostra opera di convincimento per arricchire il settore giovanile, la figura di presa di mira maggiormente è il giocatore o il genitore? Diciamo, su chi puntate per far spostare la causa Bastia? Non so se mi sono spiegato. Sì, domanda complessa. Perché, diciamo, sono due componenti che a volte sono un po' contrastanti tra loro per cui, diciamo, è più sul ragazzo o più... Allora, quanto concerne la scuola calcio quello che ci viene chiesto è come siete strutturati, chi sono gli allenatori e quando si allenano e se gli allenamenti riescono a combaciare poi con le attività dei genitori o piuttosto con le altre attività che fanno i bambini. Ti dico che per venti volte avrò detto questa è l'ultima volta che rifaccio il calendario degli allenamenti. Puntualmente smentito. No, veramente abbiamo cercato di assecondare quelle che erano delle dinamiche importanti. Venire incontro il più possibile. Quando tu sai che 2008, faccio un esempio, tutti i lunedì hanno catechismo o hanno dei rientri pomeridiani non è che tu fissi alle tre. Oppure fai venire giù anche il parroco. Il parroco. È una bella iniziativa, Mirella. Assolutamente. No, e quindi ecco, stare attenti a queste cose. Poi quest'anno veramente fino adesso è stato ben recepito il fatto che i due responsabili come ho detto prima e l'ho ribadito stanno in campo. Quindi noi abbiamo una presenza di istruttori a livello di scuola calcio che è importante, fondamentale ed è massiccia. Quindi è difficile che trovino lacune né per scarsità di istruttori o piuttosto per magari qualche bambino che stiamo sul pezzo durante la seduta degli allenamenti è quello che insomma ho chiesto. Senti, a livello agonistico invece qual è la squadra diciamo dalla quale vi aspettate un po' di più? Allievi giovanissimi? Dunque noi abbiamo sicuramente una buonissima squadra di allievi regionali a uno e peraltro la competizione quest'anno ho visto è bella alta e quindi anche stimolante è stimolante, esatto, bravo perché poi comunque da allenatore ti dico a vedere tutte belle partite qualitativamente ottimo per gli allievi perché penso che molti di questi ragazzi avranno un futuro almeno regionale importante. con i giovanissimi sono convinto che sarà un biegno di fiducia e di speranza perché abbiamo dei ragazzi che stanno crescendo tantissimo e con delle buone qualità quindi diciamo gli allievi sono un po' più pronti Sei molto ottimista sugli allievi? Sono più ottimisti, sono più pronti è una squadra un po' più pronta rispetto ai giovanissimi dove dovremmo lavorare un biegno per ottenere maggiori risultati anche magari auspicarsi un ritorno da uno Certo Allora io chiuderei con Mirella se volevo sapere se tu hai sempre mille idee mi risulta che cosa bolle in pentola per il futuro stai già presisponendo qualche altro progetto Ma c'è da Prima mi parlavi di un'idea di fare qualcosa per le ragazze Sì, allora questo è un grande assillo Un sogno Che ha il presidente Mammoli e che ripetutamente ci mette sul tavolo e mancano ancora le risorse Allora il mio sogno principale Allora parlavate della Juventus Parlavi No, parlavate a proposito di questa affiliazione Ah, sì, sì Ecco, a me è dispiaciuto moltissimo ho lottato per far sì che questo colloquio questo contatto, questa sinergia rimanesse ma non ci sono state le condizioni e devo dire che insomma sono un po' rammaricata di questo perché noi intendiamo il calcio anche come uno scambio e da loro avevamo appreso veramente grandi cose dal punto di vista tecnico ma soprattutto di quello che penso io della disciplina, dei comportamenti questo proseguimento del lavoro dei genitori io a questo miro cioè questo secondo me è quello che noi cerchiamo di fare e speriamo di farlo nel migliore di modi quindi io ho solo il sogno di continuare a mettere insieme iniziative che siano utili alla formazione dei ragazzi abbiamo il campo di ospedalicchio nuovo lì si può sognare ma voglio dire dal, ripeto, dalle attività polivalente dal costruire dei ristoranti dal metterci se i nostri imprenditori locali sono con un po' di iniziativa e riescono a esserci un po' accanto facciamo veramente facciamo l'impossibile senti come ti trovi a contatto con tutti questi ragazzi oggi ti ho visto proprio perfettamente a tuo agio no io credo che il calcio non ha sesso nel senso che è la passione che predomina non mi sento minimamente in difficoltà potrei venire qui insomma in qualsiasi abbigliamento e non è una questione di maschi femmini uomini donne è una questione di se hai fatto caso prima ci siamo abbracciati continuamente ogni volta che ci vedevamo il piacere di stare insieme noi facciamo scene insieme ovviamente che ognuno di noi paga non ci sono soldi della società che vanno minimamente per questi aspetti soldi se è possibile li mettiamo noi più che io tra l'altro sono uno degli sponsor e non li mette e non sono e non vanno minimamente a intaccare quelle che sono le risorse come ti dicevo prima queste iniziative vanno avanti con pochi spiccioli tanta volontà e tanta gratitudine verso le micro aziende esatto poi sono quelle che è sempre la buona volontà vengono in piedi un po' tutto non solo le società di calcio tutto sì i grandi sogni si realizzano come le gocce nel mare e cominciando da io faccio insieme a un altro faccio e diventano milioni di persone che fanno non aspetto che faccia l'altro chiuderei con Antonio l'ultima domanda che input dà la società al merito a vittoria o sconfitta diciamo come vi ponete con i ragazzi cioè che insegnamento date ma quello che penso debbano dare tutti i responsabili in primis io ero in panchina durante il derby Basti Angelana con gli allievi e sono stato il primo a fare i complimenti al mister avversario al responsabile avversario che hanno vinto la partita meritatamente e ho salutato e ho fatto i complimenti uno ad uno ai ragazzi avversari quindi per primo non hai stretto la mano e gli hai detto ci vediamo arrivo no 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 ti assicuro ho dato per primo l'esempio perché comunque durante la partita c'è una sana competizione agonistica soprattutto no per quanto concerne gli allievi beh necessario altrimenti assolutamente ed è quello che richiediamo chiaramente però poi le valutazioni poi le facciamo interne con gli allenatori con gli istruttori ragazzi la domenica post gara non si parla della partita si saluta e se ne riparliamo si può mangiare una pizza magari assolutamente assolutamente benissimo io ringrazio gli altri due ospiti del Bastia Antonio Interno responsabile del settore giovanile e Mirella Bartolucci dirigente donna ed è una bellissima cosa perché come ripeto ce ne sono davvero troppo poche secondo me nel mondo del calcio darebbero un tocco non solo rosa ma proprio anche di nell'organizzazione delle cose secondo me sarebbe una ricchezza molto importante adesso andiamo un attimo di nuovo in pausa poi ci rivediamo con gli altri servizi Satiri Auto showroom dell'automobile dal 1966 concessionaria ufficiale per i marchi Fiat Fiat Professional Abarth Lancia e Ford assistenza e ricambi anche per i marchi Alfa Romeo e Jeep Satiri Auto cresce la passione per le quattro ruote è tempo di cambiare con 7 calcio ora hai tutto il calcio Umbro in tempo reale scarica gratis l'app Italia Gol e poi seleziona 7 calcio è la nostra nuova applicazione risultati in tempo reale classifiche marcatori calcio mercato highlights trasmissioni e tante tantissime news è davvero tempo di cambiare scarica la nostra app Italia Gol e poi seleziona 7 calcio è la nostra nuova applicazione non puoi sbagliare non puoi non averla al comunale nuovo ricostano a Bastia Umbra per la quarta giornata del campionato allievi regionale A1 sotto la direzione del signor Assanti di Perugia scendono in campo Bastia e Foligno il Bastia è la prima a rendersi pericolosa con Bicarelli che si gira al volo con la palla che finisce sul fondo la risposta del Forigno non si fa attendere con Paffarini che dalla lunetta colpisce male la palla Pucci al sesto ci prova al volo sfiorando il palo alla destra di Pollici sul riversamento di campo il Bastia ci prova dal limite mandandola sul fondo Pucci all'undicesimo servito in aria si coordina ma Pollici respinge permettendo a Bibbi di allontanare la palla Daccardi al sedicesimo ci prova dal limite con la palla che finisce sul fondo il Forigno al diciottesimo passa in vantaggio Pucci si infora sulla fascia mettendo al centro dove Pesca beve l'acqua che di destra la infila in rete il Forigno continua ad attaccare Paffarini Paffarini prima al trentesimo dal limite ci prova con la palla che finisce sul fondo a seguire la manda alta provando a metterla dentro su una respinta di Pollici sul tiro di Chiu Chiu Santucci al trentatresimo ci prova dal limite ma Sabatini si distende deviando la palla in calcio d'angolo il Forigno al trentesimo raddoppia Chiu Chiu la mette in mezzo dove la aggancia Gorgoni infilandola alle spalle di Pollici bevi l'acqua al trentasettesimo sui sviluppi di un corner svesta più in alto di tutti colpendo di destra ma Pollici non si fa cogliere il preparato facendo sua la palla il Foligno al quarantunesimo triplica angolo di Paffarini Bocci ci arriva infilando la palla in rete la ripresa si apre con il Foligno che si porta subito ad un attacco provandoci dal limite ma Cuomo fa sua la palla la risposta del Bastia non si fa attendere Daccardi lanciato dalle retrovie dal limite ci prova sfiorando il palo alla destra di Sabatini con Rico al centesimo si prende la palla provandoci dal limite dell'area il Bastia al ventesimo accorcia le distanze angolo di Buratti Daccardi salta più in alto di tutti infilando la palla in rete il Bastia ci crede portandosi in attacco Daccardi ruba la palla a chiù chiù entrando in aria ma Sabatini ci arriva deviando in angolo Santucci al ventisettesimo lanciato dalle retrovie arrivato al limite dell'aria ci prova ma Sabatini fa sua la palla Pucci al ventottesimo si invuola in aria Cuomo lo atterra con Assante che non può far altro che assegnare il rigore per il Foligno sul dischetto si porta lo stesso Pucci che realizza il Bastia non ci sta e si porta in attacco Rossi al trentaduesimo prova a metterci lo zampino cercando di deviare il re e la palla messa in angolo ad Angerucci sul tiro di Daccardi Menichelli al trentaquattresimo entra in aria saltando anche Bibi ma Cuomo respinge permettendo poi alla difesa di allontanare il Bastia continua ad attaccare Santucci al trentasesimo dal limite dell'aria si ritrova la palla fra i piedi provandoci mandandola alta sul fondo il Bastia Cigrede e al trentasettesimo accorcia le distanze portandosi sul 2 a 4 con Santucci bravo a metterla dentro sfruttando una ribattuta di Sabatini sul tiro di Buratti Pucci al quarantatresimo la manda alta sopra la traversa una partita che è iniziata in maniera difficile loro sono stati molto aggressivi ci hanno messo un po' in difficoltà i primi dieci minuti poi però piano piano abbiamo preso campo quindi abbiamo fatto poi gli ultimi ventimune soprattutto il primo tempo molto bene siamo andati addirittura in vantaggio di tre gol e quello probabilmente ha chiuso la partita nel secondo tempo siamo stati un pochino più distratti cosa sulla quale dobbiamo lavorare ma sono convinto che con il duro lavoro che i ragazzi in questo momento stanno facendo cercheremo di evitare anche questo tipo di errori siamo iniziati male e cercheremo di migliorare sotto il punto di vista dell'aggressività dell'attenzione e cerchiamo di migliorare siamo partiti male siamo partiti male dobbiamo migliorare e dobbiamo metterci più impegno penso che fino ad oggi stiamo facendo un'ottima stagione abbiamo perso col Cannara però è stata una partita a sé in quanto era anche un derby c'è stata una vittoria 4-0 su Annarnese molto importante e un pareggio col Sansepolcro oggi ci siamo confermati un'ottima squadra dobbiamo migliorare sul ritmo partita e migliorare l'attenzione però finora è stato un ottimo andamento ricordiamo che potete contattarci per ospitare una puntata di Qui Calcio Cicova ma anche per realizzare servizi tv di singole partite e qui oltre che alle società ci rivolgiamo anche ai gruppi di genitori che magari vogliono dare una visibilità televisiva ai loro ragazzi contattateci al 330-5226-27 Allievi A1 quarta giornata Angelana SF Castellano del Lago 4-0 Atletico Cubbio Sanzisto 3-4 Bastia Foligno 2-4 Cannara Orvietana 3-1 Narnese Campitello 1-3 Sansepolcro Castel del Piano 4-2 Valdichiana Terni Est 0-2 Classifica Cannara 12 Sansepolcro Campitello Angelana e Sanzisto 10 Forigno 7 Castel del Piano 6 Terni Est 4 Bastia Narnese Orvietana SF Castellano del Lago 3 Chiudono Atletico Cubbio e Valdichiana a 0 punti Andiamo agli allievi a 2 Girone A sempre quarta giornata Agape FC Castello 1-2 Colombella Perugia Nord Pievese 1-7 Fontanelle Don Bosco 3-1 Ponte Valleceppi Montemalbe 9-0 Ponte Vecchio Mdl Sansecondo 6-0 Santa Sabina Guardo Casacastalla 2-0 0-0 tra Virtus San Giustino e Trestina La classifica al comando Ponte Valleceppi Pion 12-12 Ponte Vecchio 10-0 Don Bosco e Fontanelle 9-0 Agape Pievese 7-0 FC Castello Colombella Perugia Nord 6-0 Trestina 5-0 Virtus San Giustino Santa Sabina 3-0 Guardo Casacastalla Montemalbe 1-1 Chiude Mdl Sansecondo 0-4 Classifica Nestore Accademia Calciuterni al comando con 12 punti Segui la cota 10 Olimpia Tirus e GMT 2005-9 Giulia Spello Fulgini 1-7 PGS Bosico Amerina e Petrignano 4 Olimpia con le pieve Pantalla 3 Chiudono a 0 Nardia 2014 Vigo Nuo Qualdo Bastardo e Virtus Foligno Ok dobbiamo siamo in chiusura vi dobbiamo ovviamente anche tutti i risultati dei giovanissimi a 1 e dei due gironi a 2 eccoli qua a voi Giovanissimi a 1 girone unico quarta giornata Castello del Piano Sansepolcro 1-2 Campitello Don Bosco 2-1 Ducato Carnara 5-1 FC Castello Narnia 3-1 Foligno Angelana 2-0 Ponte Vecchio Ponte Valle Ceppi 3-0 San Patucchio Castillo del Lago Santa Sabina 1-2 Classifica Santa Sabina e Campitello al comando con 10 Ducato 9 Foligno 8 Cannara Sansepolcro e Angelana 7 Castello del Piano FC Castello 4 San Patucchio Castillo del Lago Ponte Vecchio Don Bosco e Narnia 2014 3 punti chiude il Ponte Ponte Valle Ceppi con un punto Giovanissimi regionali a 2 Girone A Quarta giornata Barberini Flamini Abito San Giustino 1-3 Giovanile Arna Settevalli Pila 2-5 Guardo Casa Castalda Perugia 3-1 Posticipata Mdl San Secondo Nocera Umbra Pievese Trestina 0-2 San Marco Juventina Carpine Magione 4-2 San Sisto Fontanelle 1-2 Riposava Atletico Gubbio La classifica Fontanelle 4-4 Casa Castalda Comando 12 Virtus San Giustino 7 Atletico Gubbio San Sisto Settevalli Pila Trestina Perugia San Marco Juventina 6 Giovanile Arna 4 Carpine Magione Pievese Barberini Flamini A 3 Chiudono 0 punti Nocera Umbra Mdl San Secondo Girone B dei giovanissimi regionali A 2 Sempre Quarta giornata Amerina Accademia Calcio Terni 2-3 Deruta San Nicolò Petrignano 0 a 3 Giovanili Todi Nestor 1 a 1 Olimpia Con le pepe Pantalla Iulia Spello 1 a 0 Olimpia Tiros Fulginium 6 a 1 Orvietana Vigoro Caldo Bastardo 1 a 2 PGS Bosico Bastia 0 a 0 La classifica Nestor Olimpia Tiros Al comando Con 10 Accademia Calcio Terni Vigoro Nova Caldo Bastardo Iulia Spello Olimpia Con le pepe Pantalla 9 Amerina Petrignano 6 Bastia Giovanili Todi 4 Fulginium 3 Orvietana PGS Bosico 1 Chiude il Deruta San Nicolò ancora fermo a 0 punti Benissimo abbiamo concluso anche per oggi la quarta puntata finisce qui abbiamo raccontato e fatto vedere anche quello che è successo a Bastia sabato con la presentazione di tutto il settore giovanile e abbiamo anche dialogato con 4 personalità importanti dell'organizzazione Bianco-Rossa un saluto a tutti a mercoledì prossimo Satiri Auto showroom dell'automobile dal 1966 concessionaria ufficiale per i marchi Fiat Fiat Professional Abarth Lancia e Ford assistenza e ricambi anche per i marchi Alfa Romeo e Jeep Satiri Auto cresce la passione per le quattro ruote Oh yes it's just my type